Il tema che va affrontato sempre per quanto riguarda le stramberie che l'Unione Europea vuole imporci, guardate adesso come dobbiamo trattare i nostri ortacci. Arriva l'ennesimo diktat dall'Europa all'Italia. Dopo le etichette shock sul vino, la Casa Green, che impone costosi lavori di restauro ai proprietari, ora si aggiunge anche il nuovo regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi, che impone all'Italia di ridurre del 62% l'uso dei fitofarmaci. Per gli agricoltori un fulmine a ciel sereno. In assenza di difesa dai parassiti e dalle malattie, si stimano pesanti cali nelle produzioni di grano duro, che scenderebbe del 70%, ma anche di olio, pomodoro, riso e mais, settori in cui l'Italia vanta buoni livelli di coltivazioni. Il settore agroalimentare vale 550 miliardi di euro, pari al 15% del PIL. Da cinque anni ormai il nostro paese fa grande attenzione all'uso dei fitofarmaci nei campi ridotti già del 38%. Oggi sono 2 milioni e 200 mila gli ettari di terreno convertiti a biologico. L'Italia in Europa deve difendersi anche su questo fronte con la crisi energetica, che si fa sentire ormai da mesi un vero tsunami per tutto il comparto. Dall'olio al vino al Nutriscore siamo sotto attacco da parte dell'Europa. Questo è un po' il quesito che si pongono gli italiani. Questo è il quesito che si pone anche il nostro ministro dell'agricoltura, Lollobrigida. Tra poco andremo anche all'agenzia perché c'è proprio una dichiarazione del ministro. Ma do il benvenuto a Cristiano Fini. Buongiorno. Dove si trova Cristiano? Buongiorno. Ci faccio vedere un po' dove si trova e vorrei che lei commentassi anche questa ennesima batossa che ci arriva da parte dell'Unione Europea. Adesso ci dicono anche come dobbiamo coltivare i nostri ortaggi, la nostra frutta, la verdura, come dobbiamo fare il vino. Ci dicono per filo e per segno come dobbiamo campare. Sì, mi trovo in campagna, in un vigneto. È chiaro che abbiamo ricevuto queste linee guida che sono assolutamente irricevibili perché come avevate detto voi nel servizio da un recente studio che C agricoltori italiani ha commissionato a Nomis, ma noi abbiamo ridotto del 38% negli ultimi 5 anni l'utilizzo di fitofarmaci. Considerate che il 40% di fitofarmaci che utilizziamo sono consentiti anche in agricoltura biologica. È chiaro che se noi, qualora noi andassimo verso un'ulteriore riduzione drastica come ci vuole imporre la Commissione Europea del 62%, possiamo solo immaginare che nei prossimi anni produrremo, come è stato detto e visto anche prima, dal 60% all'80% in meno di grano duro, olio, pomodoro e quant'altro. Quindi io credo che questo sia assolutamente insostenibile. Noi sì, come settore, dobbiamo sempre di più puntare a una transizione ecologica e a una sostenibilità ambientale del settore, ma dall'altro lato purtroppo abbiamo i cambiamenti climatici, le fitopatie che ci stanno letteralmente mettendo in ginocchio e non possiamo consentire di non avere gli strumenti per poterci difendere. Allora direttore Feltri, ha sentito, produrremo meno frutta, verdura, meno olio, meno vino, però l'Europa ci propone i grilli, tanto per intenderci i grilli da mangiare o farina di grillo. Insomma, c'è un passaggio abbastanza forte da come siamo abituati a vivere noi adesso a come magari l'Europa ipotizza dovremo vivere da qui ai prossimi vent'anni. L'Europa non come un'amica ma come una nemica perché anche la questione dei grilli fa addirittura ridere perché se ti trovano un grillo al ristorante ti chiudono il locale, se te lo mettono nel piatto invece sei un raffinato degustatore, quindi siamo all'imbecillità veramente senza uguali. Inoltre pretende l'Europa di insegnare ai nostri agricoltori, quelli italiani che sono tra i più bravi al mondo, a coltivare il che fa anche ridere perché noi siamo bravissimi con la frutta, con la verdura, col vino, con mille altri prodotti che sono i più ricercati al mondo, sono i più buoni e l'Europa che diciamo così non sa niente perché basta guardare in faccia i signori che stanno seduti sulle portone europee per capire che sono un branco qualche volta, non dico di imbecilli ma siamo lì più o meno. Quindi io sono convinto che noi non è che dobbiamo adeguarci all'Europa, dobbiamo combattere l'Europa soprattutto in queste questioni in cui dimostra tutta la sua inadeguatezza. Noi siamo capacissimi di fare il vino, siamo capacissimi di creare gli ortaggi, non siamo bravi a mangiare i grilli perché ci fanno schifo. E mi sembra chiarissimo il tuo messaggio. Cari, ma vengo da te, ma è possibile che, come dice il direttore, adesso l'Europa ci debba anche insegnare come dobbiamo coltivare, come dobbiamo fare il vino? Tra l'altro siamo tra i più bravi, come ricordava anche il direttore, esportatori e produttori di vino, non ci deve insegnare niente a nessuno. E allora perché l'Europa si intromette? A me questo racconto mi diverte molto perché si parla d'Europa come fosse un'entità lontana, ma l'Europa siamo noi. Quelli che a Vittorio Felti fanno orrore, che sono seduti, sono i nostri compagni di banco e l'Europa l'abbiamo costruita noi, un'Europa con idee, un'Europa dove tutti noi, perché queste direttive che arrivano, non è che arrivano contro l'Italia, sono delle direttive che escono fuori dalle menti, dai cervelli di tutti gli europei e sono tutti tenuti a rispettare. Se non ci piacciono perché siamo italiani e abbiamo le nostre prerogative, abbiamo le nostre specificità, li si fanno valere in Europa. Però questo racconto è un po' strano, sembra che c'è qualcuno che si chiama Europa e che è decisa dal giorno alla notte che deve farci la guerra. Lo sappiamo che non è così. Dopodiché, se continuiamo con questo racconto, togliamoci dall'Europa, mettiamoci con i nostri vicini di casa, che tra l'altro sono ancora più vicini quelli africani. No, però possiamo almeno trarre qualche vantaggio da quest'Europa. Così almeno abbiamo le macchine diesel, abbiamo la benzina, non c'è nessun controllo sull'agricoltura. A me mi sembra un racconto abbastanza assurdo. È evidente che l'Italia non ha cointenzione di uscire dall'Unione Europea, essendo tra l'altro uno stato fondatore. Francesco, però possiamo avere almeno qualche vantaggio da parte dell'Unione Europea e non avere soltanto, ad esempio, penalizzazioni per quanto riguarda anche il vino? Dobbiamo mettere le etichette, dobbiamo dire in Europa che il vino fa male, viene considerato come se fosse un qualche cosa di nocivo. Insomma, non è che ci siano tanti incentivi. A me spiace che venga dipinta l'Italia, come fa la signora Carima, in una maniera quasi... Ti pinta voi. Sembriamo noi, non lo so, i piccolini che stanno lì, tutti stanno con noi. Lei tollera che si possa parlare anche... Se lei tollera parlo anch'io. Allora... Eh sì, ma parlate, parlate. Sì, sì, no, il tema... Non ti rende conto che è cambiata l'Italia in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi? Lei ha ragione quando dice che nessuno è partito contro l'Italia. in realtà nessuno ha difeso l'Italia. Se oggi c'è un ministero della sovranità alimentare, vorrà dire qualcosa che ieri non c'era? Vorrà dire cioè che si tende a far pesare l'agricoltura italiana in Europa e bisognerà combattere queste degenerazioni perché è inaccettabile quello che sta succedendo sulla qualità del nostro prodotto. Io con l'Europa ho avuto un rapporto da Presidente di Regione, parliamo di una vita fa, quando andammo a conquistare ad esempio il rapporto di Presidente della Commissione Europea, le premialità per la capacità di dar corso a nuove politiche in campo agricolo e la nostra Regione fu premiata. Non ho visto più al governo del Paese ministri dell'agricoltura che si sono andati a impegnare in questi ultimi dieci anni. Oggi è il momento e allora non bisogna ridurre a cosa ridicola la battaglia contro queste cose che avvengono in Europa, perché è una battaglia di civiltà e mi meraviglia il fatto che si difenda un assetto europeo che continua a decidere per conto nostro cose che dovremmo decidere casomai con la nostra legislazione. Questo è il punto vero. E vuole decidere l'Europa anche quello che mangiamo, quello che dobbiamo bere, ma anche dove dovremmo andare a vivere e in quali case dobbiamo vivere. Guardiamo il servizio.